Oggi è sempre stata la più bella, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. La libertà, la libertà. L'associazione Io non fume tu è stata formata da un gruppo di genitori che avevano partecipato all'organizzazione per l'elezione dei decreti delegati nella scuola. Abbiamo detto perché non mettiamo a frutto questa esperienza? Abbiamo deciso di continuare però facendo teatro e da allora praticamente non avevamo più smesso. Abbiamo deciso di nuovo di mettere a frutto il teatro per aiutare gli anziani che andati in pensione si trovavano soli. Noi trovandoci con loro abbiamo capito che il teatro poteva essere una terapia. In quel periodo posso già dirvi che non ci chiamavamo Io non fume tu ma ci chiamavamo Io sorrido e tu. Poi siamo stati anche un po' fortunati perché in circostazione mancava un gruppo di questo tipo. Allora ci hanno conosciuti, ci hanno fatti conoscere dal comune e lì abbiamo partecipato alle rassegne teatrali, abbiamo ricevuto i nostri belli applausi. Poi il gruppo si è diviso perché eravamo troppo numerosi e noi abbiamo preso il nome Io non fumo e tu. Da allora non abbiamo più cambiato nome, siamo rimasti sempre nella C2 e lo siamo tuttora e abbiamo poi inventato Ginnastica Fè. Richiamando il nome Ginnastica, ma non vuole essere una ginnastica seria come si va a fare in palestra, ma è una ginnastica di movimento. Quindi è un pretesto per girare il capo per guardare chi c'è alla tua destra e alla tua sinistra. Oltre all'attività di cui ha parlato Rita, dobbiamo aggiungere una seconda e importante attività, che è quella dei nonni racconti. Questa attività è nata un'edicina di anni fa ed ha avuto lo scopo iniziale di andare a raccontare ai ragazzi delle scuole medie ed elementari il trascorso della nostra vita iniziale da quando eravamo bambini. È avuto molto successo. Poi abbiamo fatto un'altra attività, è quella dell'Ate, l'Associazione Terza Età, ed è formata da un gruppo di noi, di anziani. Andiamo a cercare di portare gioia a questi anziani che ci vengono a sentire con il canto, con l'animazione. Questa attività la svolgiamo in tanti centri d'incontro ed ha molto successo e da questo noi ricaviamo anche noi di conseguenza una certa gioia perché vedere che c'è il pubblico che ti viene dietro, ti segue e apprezza quello che facciamo, il vedere il loro gradimento ci incoraggia a fare sempre qualcosa di più. Ho conosciuto questa associazione parecchi anni fa, forse 13 anni, e quando sono andata in pensione avevo perso le mie caratteristiche e facendo queste attività ho trovato veramente la mia occupazione per il futuro. L'attività a cui mi dedico maggiormente è l'attività di ginnasti caffè. Tramite le attività che offriamo noi produciamo salute. Sono tante le persone che vengono a dirci che questa attività è al centro della loro vita. A parte ginnasti caffè mi occupo soprattutto di creare e di esercitare un gruppo di 10-12 persone per quanto riguarda le scenette da fare poi durante gli spettacoli che portiamo presso gli anziani. Possibilmente sempre ispirate al buon umore e all'allegria. Finalmente penso che abbiamo dato vita ai nostri giorni più che giorni alla vita. Oggi ho un ruolo di animatore a ginnasti caffè alla Roccafranca e mi sono ritagliato un ruolo che è indispensabile ma non trova sul roghe che è quello di factotum del gruppo con particolare interesse alla parte strumentale e fonica. Tutti i nostri attori nelle scenette sono dotati di un piccolo radiomicrofono. Devo dire che il risultato che la nostra associazione ottiene anche con questi preziosi strumenti tecnologici che abbiamo potuto acquisire grazie anche agli aiuti che la circoscrizione 2 ci è erogato ha aiutato a migliorare la qualità totale della nostra partecipazione. Io dico che è una cosa che dovrebbero farla in tutte le circoscrizioni, non un gruppetto solo. Sei gruppetti vuol dire che tu hai la possibilità in sei posti del tuo quartiere di venire a incontrare i tuoi amici. Le persone che ho incontrato sono state tantissime ma tutte se ne sono andate più ricche di quando sono venute da noi. Mi è rimasta impressa una frase che una partecipante a Ginnasti Caffè una volta ha detto. Ginnasti Caffè è una medicina a rilascio lento settimanale e non ha controindicazione. Continuerò sempre a dire che la cosa più bella sono gli applausi. Grazie.